Il Movimento 5 Stelle diventa il secondo partito in Italia secondo gli ultimi sondaggi. Nelle Marche si registra l'ennesimo caso di suicidio in carcere, è successo ad Ancona. Siria è guerra civile, lo dice l'ONU, strage di bambini. Il ministro barca nelle Marche a Fabriano ricostruzione post-sisma da record. Tempesta sul ministro Fornero per gli esodati. Nelle Marche la raffineria Api annuncia lo stop nel 2013. Debito, nuovo record, Monti annuncia la vendita di beni pubblici. È tempo di endurance nelle Marche con l'arrivo di esponenti degli Emirati Arabi Uniti. Il decreto sviluppo all'esame del Consiglio dei Ministri. Nelle Marche arrivano mille lavoratori Indesit da tutta Italia, la protesta a Fabriano. Il decreto sviluppo all'esame del Consiglio dei Ministri. 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 Il decreto sviluppo all'esame del Consiglio dei Ministri.